Il prossimo match contro il Cagliari, sfida contro una diretta concorrente, non sarà una gara facile, come lo dovrà affrontare questo Spezia? Dovremo affrontare la partita contro il Cagliari come il primo tempo che abbiamo affrontato oggi, cattivi, solidi, compatti, da squadra unita, senza mai disunirci. Bisogna portare a casa il risultato importante che sono punti fondamentali contro una squadra forte, però secondo me possiamo giocarcela alla pari. Lo Spezia deve sfruttare in questi scontri diretti il fattore picco? Lo Spezia deve cercare di affrontare tutte le avversarie come ha dimostrato di saper fare, perché in tanti momenti abbiamo fatto vedere che siamo una squadra che può essere continua nell'arco dei 90 minuti, anche di riuscire a fare filotti di risultati utili e chiaramente in queste 11 gare dobbiamo andare alla ricerca di questo, perfezione nei 90 minuti e grande attenzione nel ricercare il risultato, perché adesso i punti pesano, le partite sono sempre meno e da questo punto di vista dobbiamo maturare tantissimo.